salve amici e amiche a allora iniziamo con qualche notizia simpatica che viene almeno dall'intelligenza artificiale che ci permette di fare questo in questi giorni stanno arrivando tanti video fatti dall'intelligenza artificiale in questo modo che fanno ridere vi mostro anche questo perché perché appunto come sapete questo candidato alle presidenziali americane ha visitato un mcdonald mcdonald la compagnia si è dissociata nel senso ha dichiarato di non sostenere nessuno dei due però ecco guardate cosa può fare l'intelligenza artificiale oggi è incredibile ora poi se a questo si mettono insieme anche i montaggi alternati allora vengono fuori capolavori diciamo ecco che cibo spazzatura e ciccio kim sono la comunione perfetta allora andiamo avanti arrivano altre notizie che riguardano i soldati nordcoreani in russia questo per esempio è un video in un centro di addestramento o smistamento quello che è che arriva proprio da astra canale russo e sono soldati con quelle caratteristiche ora arrivano anche altre notizie del tipo che 18 di loro hanno cercato di scappare non appena sono stati schierati dalla regione di kursk quindi sì questo è quello che sta succedendo quindi cari amici come sempre benvenuti se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace e qui sotto ci sono i pulsanti di youtube per aiutarmi a continuare a fare questo lavoro oggi tratteremo quindi questi argomenti che riguardano appunto la situazione in ucraina ma anche anche altri argomenti in particolare legate alle azioni ucraina nella regione di kursk e l'aviazione quello che fa l'aviazione parleremo poi di ptsd la sindrome da stress post traumatico collegandomi anche a un libro che mi avete inviato e parleremo anche delle elezioni in moldavia e quello che potrebbe accadere in georgia quindi iniziamo allora televisione russa momento tv questa ripeto è il canale 1 il canale principale in russia vi leggo cosa dicono di noi cosa dicono dell'europa quindi filo russi scansatevi questo tizio dice un accordo in ucraina non risolverà nulla non sarà nemmeno una tregua è necessario risolvere i problemi dell'intero gruppo di nazioni dall'oceano artico al mar mediterraneo supponiamo che l'accordo avrà luogo anche a condizioni convenienti per la russia per dirla in parole povere ma cos'è la sicurezza della russia senza i balcani anche a condizioni convenienti per la russia come ci si può immaginare la nostra sicurezza senza l'area dei balcani in generale come si può immaginarla senza mettere in sicurezza i balcani e la polonia la regione di kaliningrad volerà via da qualche parte i confini settentrionali e nord occidentali della bielorussia faranno da dama assolutamente no pertanto sono convinto che se parliamo di prospettive a lungo termine sarà necessario il ritorno della russia nei balcani e il ritorno della russia nell'europa centrale e orientale capito quindi sì che cosa facciamo torniamo indietro al 1980 alziamo un bel muro a berlino questi sono i discorsi della russia nel frattempo per esempio vi mostro questa immagine perché è stato battuto un record con una stima di 1710 soldati russi caduti ieri in un giorno 680.230 i soldati russi caduti e feriti 1710 solo in un giorno quindi come è potuto succedere allora per capirlo conviene dare un'occhiata a quello che è il fronte infatti sediamo se partiamo dalla regione di kursk tutte queste icone vedete mostrano le perdite da parte russa carri armati il 21 ieri mezzi da trasporto ognuno di questi mezzi portava 6 8 10 uomini dipende quindi ora tra l'altro due giorni fa questa iconcina vedete questa iconcina blu era di un report su telegram da parte della ricognizione russa in cui diceva che gli ucraini sono fuggiti durante la notte si sono ritirati durante la notte da questo villaggio da quest'area però oggi come vedete già si parla di un contrattacco da parte ucraino e tutte queste perdite significheranno qualcosa ora queste perdite sono dovute al fatto che la 47esima motorizzata ha inviato rinforzi la 47esima è un reparto motorizzato glorioso ucraino che opera con bradley ora il bradley che vedete in questa in questa sequenza è proprio uno della 47esima fra l'altro vedete che ha cambiato anche hanno cambiato la livrea sono passati a una colorazione autunnale in questo video questo bradley fa un assalto e come sempre si dimostra un mezzo estremamente valido ed efficace soprattutto contro i mezzi leggeri russi cioè non c'è storia il cannoncino da 25 fa danni a tiro rapido è un mezzo estremamente veloce e versatile che è sicuramente senza ombra di dubbio il mezzo migliore che gli ucraini hanno utilizzato fino ad oggi ma oltre a questo comunque la 47esima utilizza anche m1 abrams che è un carro armato americano che è nettamente superiore alle controparti russe cioè non ci piove quindi questa è la situazione altri rapporti poi parlano di attacchi dronici ucraini a 900 chilometri dal fronte è stata confermata l'esplosione in una fabbrica di esplosivi sembra un po assurdo dirlo ma si è stata colpita una fabbrica di esplosivi a 900 chilometri dal confine grazie ai nuovi droni ucraini poi si segnalano anche altri attacchi a una azienda una una fabbrica di agenti chimici è una che produce alcol ora facile dire che sarà una grande perdita per russi visto che no sono famosi per per bere la vodka ma in realtà l'alcol viene utilizzato anche per i mezzi militari in particolare per l'aviazione dato che viene utilizzato nei sistemi di raffreddamento e pressurizzazione infatti è famoso notare spesso dei barilotti contenenti alcol all'interno delle degli aeroplani russi quindi sì questo è un altro video molto interessante ve lo passo in descrizione perché è bello dura sette secondi ma merita dove si vede in azione una di queste metragliatrici binate è una doppia canna presumibilmente una di queste montate su mezzi di questo tipo vedete che distruggono un drone shahed a bruciapelo cioè questo drone letteralmente brilla a pochi 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 metri dalla postazione andiamo avanti mi collego a un commento che mi è stato posto un paio di giorni fa di un utente che mi scriveva ma l'aviazione ucraina cosa sta facendo possibile che adesso che hanno tanti aerei non fanno nulla ora il discorso è complicato non hanno tanti aerei prima di tutto nel senso ne avranno una sessantina una settantina giù di lì e se consideriamo che la russia ne ha qualcosa come 800 700 a disposizione c'è una disparità di numeri in campo ma comunque la guerra aerea non funziona un po come avveniva nella prima guerra mondiale nella seconda guerra mondiale oggi prima delle azioni aeree si parla sempre di scudi missilistici quindi non è facile per nessuna aviazione penetrare in uno spazio aereo protetto da scudi missilistici questo vale per gli ucraini che non possono avvicinarsi facilmente al fronte dato che i russi possono schierare i loro pezzi antiaerei vicini al fronte e non possono farlo i russi dato che non hanno la superiorità aerea sul territorio ucraino proprio in virtù del fatto che sul territorio ucraino ci sono patrio ok senti ed è via discorrendo scusate quindi si parla di scudi missilistici poi ci sono delle emissioni fatte dagli aeroplani per distruggere questi scudi missilistici si parla appunto di soppressione delle difese aeree ma questo puoi farlo quando hai grosse possibilità grossi numeri e gli ucraini non ce l'hanno il fatto che la russia non riesca ad avere un approccio sistematico da questo punto di vista la dice lunga nel senso in quasi tre anni di guerra non hanno mai ottenuto la superiorità aerea netta un po come farebbe non so una coalizione o in stile americano si limitano a bombardare l'ucraina da fuori non la sorvolano e quindi anche gli ucraini fanno più o meno così però ecco le azioni le fanno questo è un su 27 la prima serie fra l'altro è un aereo degli anni 80 che tengono in linea volo e come diciamo come possibilità e avioni che è un filo indietro rispetto a un f16 anche se ha un radar più potente nonostante appartenga a una generazione passata di radar però comunque con questi aerei fanno missioni di attacco al suolo e soppressione delle difese aeree questa immagine per esempio mostra il muso di un mig 29a che per intenderci sono degli aerei che volavano ancora quando c'era il muro di berlino erano fra l'altro in germania prima di essere concessi anche all'ucraina sono proprio aerei vecchi da avioni che molto datate però ecco questo numero di bombette disegnate ci dà un'idea del numero di incursioni e missioni che questo aereo singolarmente ha fatto contro postazioni russe ognuno di quei ognuno di questi simboli è un è un raid avvenuto con successo quindi ci dà un'idea del fatto che gli ucraini gli aerei li usano e come per quanto riguarda gli f16 il ruolo ruolo primario non è quello per esempio di far saltare questi ponti come fanno i mig 29 che ho appena descritto ma il ruolo primario degli f16 oggi da quello che è stato dichiarato e lo abbiamo anche visto fra l'altro è quello di proteggere lo spazio aereo interno dell'ucraina da attacchi di missili da crociera e droni fra l'altro ne hanno perso anche uno in queste missioni un pilota dopo aver distrutto due di questi oggetti missili da crociera o droni quando è andato a dirigersi verso il terzo è precipitato quindi questo per dire che comunque anche quelle sono missioni cruciali ma comunque sono missioni rischiose è documentato per esempio uno dei più loro assi che oggi vola col mig 29 per abbattere uno di questi droni quell'oggetto è esploso proprio nelle vicinanze e i frammenti lo hanno colpito hanno colpito il pilota hanno colpito l'aereo e lui è dovuto lanciarsi tanto che poi ferito com'era riuscito anche a farsi un selfie mentre scendeva col paracadute quindi non sono missioni esenti da rischio e questo comunque permette di sfruttare le f16 nelle sue capacità avendo a disposizione tutta tutta l'avionica e data link e soprattutto avendo molte più possibilità di volo notturno rispetto ai mig 29 quindi se ci sono incursioni da parte di missili da crociera e droni durante la notte l'f16 è l'aereo migliore per poter fare questa missione avendo i piloti a disposizione migliori avioniche per questo tipo di volo restando in tema di aviazione poi c'è stato ecco guarda come voleva dimostrare questo per esempio questo edificio non vi posso mostrare il video per intero ma all'interno di questo edificio ci sono degli operatori dronici russi e questo edificio viene colpito da due bombe di precisione lanciate proprio da un attacco aereo ucraino bombe di precisione francesi quindi sì l'aviazione russa fa fa tanto moltissimo ora sempre per restare in tema aeronatico prima di passare oltre segnalo che un il 76 in il yujin un aereo russo da trasporto è stato abbattuto all'interno c'era personale russo infatti poi si vedono chi lo ha abbattuto in sudan le forze paramilitari hanno abbattuto questo aereo che stava portando equipaggiamenti armi ai ribelli quindi i documenti che sono stati trovati a bordo erano di personale russo ora per collegarmi al discorso poi per finire discorso con i soldati nordcoreani come era prevedibile questa enorme stupidata fatta da putin ha fatto imbestialire anche gli americani che con il loro portavoce che è arrivato a kiev ieri hanno appena confermato l'invio di 800 milioni a sostegno della produzione di droni in ucraina ora questa è una genialata nel senso se tu incentivi la produzione di droni in qualche modo stai capitalizzando l'efficacia delle forze ucraine dato che questi mille molti moltissimi di questi dove stava lo becco moltissimi dei 1700 dichiarati ieri moltissimi di questi sono proprio a causa dei droni ucraini quindi sì ottimo lavoro è chiaro che non stiamo parlando ancora di autorizzazioni per utilizzare armi nato in territorio russo però già questo è qualcosa andiamo avanti allora per quanto riguarda i traumi che i soldati ucraini ricevono la cosiddetta ptsd che è l'evoluzione del concetto di trauma da sindrome post traumatica sappiamo benissimo in europa che la cosa ha radici antiche noi in italia fra l'altro abbiamo sperimentato la cosa nella prima partire della prima guerra mondiale è diventato anche un discorso culturale no se avete presente il cosiddetto termine scemo di guerra erano nient'altro che questi poveretti che tornavano dal fronte con ovvi problemi da stress post traumatic post traumatico all'epoca non veniva neanche chiamato così questi studi inglesi per esempio si credeva almeno i medici credevano che fosse isteria e non capivano perché dato che l'isteria veniva associata alle donne il che la dice lunga sulla condizione della donna a quel tempo insomma però ecco questi questo soldato vedete reagisce così solo a vedere il cappello di un ufficiale ora non voglio semplificare però insomma i spasmi muscolari i movimenti particolari all'inizio i medici pensavano fossero traumi fisici in realtà sono sappiamo oggi che sono traumi psicologici che si manifestano anche a livello fisico gli articoli su questo articoli su questo ce ne sono tanti ve ne passo giusto alcuni ma oggi da partire in particolare dagli anni 80 affrontiamo la cosa con più scienza da un punto di vista scientifico e anche in ucraina il discorso si sta manifestando lo sappiamo da oltre due anni e mezzo che così arrivano persone in condizioni tremende dal fronte e sappiamo anche che il problema non è solo legato ai soldati che vivono la guerra in prima persona quello è la manifestazione primaria della ptsd la secondaria per esempio coinvolge i familiari i civili che vengono coinvolti nella guerra che attualmente in ucraina sono tanti o questo problema può fra l'altro può continuare a interessare i civili le famiglie dei soldati che tornano dal fronte ma gli stessi civili che subiscono la guerra anche per generazioni non è un problema che risolvi insomma facendo qualche seduta dallo psicologo questi traumi sono profondi e lasciano appunto segni segni indelebili e poi fra l'altro c'è anche da considerare il terzo aspetto della ptsd che coinvolge il personale medico che vede questi orrori e ha a che fare con questi traumi gestendoli anche da un punto di vista professionale insomma è un problema andando non da poco in ucraina che sono dalla parte del della ragione figuriamoci in russia dove mandano letteralmente centinaia di migliaia di uomini in una guerra di invasione esperimentano queste esperienze se parliamo poi per esempio visto che i segnali i fatti di cronaca ce lo dicono i cosiddetti carcerati russi che hanno subito delle condanne non lo so per omicidio vengono mandati in guerra questi reati se il soldato torna indietro gli vengono abbonati ora immaginate a vedere uno di questi soggetti in un villaggio di poche persone a girarsi cosa può fare e infatti arrivano testimonianze di cronaca terribili dalla russia se moltiplichiamo questo per decine di migliaia di soggetti del genere non è più neanche un problema di gente con la sindrome è proprio un problema sociale di ordine pubblico quindi ecco insomma c'è tanto da dire a riguardo ora perché mi collego a questo discorso oggi perché appunto ho accennato alla ai 40 mila internati che abbiamo avuto in italia quando finì la prima guerra mondiale è un numero stimato quello che vi sto dicendo però noi abbiamo avuto qualcosa come 40 mila soldati messi nei manicomi cioè così venivano trattati così ovviamente il numero molto maggiore perché insomma chiunque ha vissuto in piccole cittadine villaggi in italia si ricorda di queste persone che non sono mai riuscite a recuperare questi traumi un episodio fra tutti almeno una battaglia fra tutti sicuramente è quella di montepiano avvenuta sulle dolomiti di sesto ok a questo proposito l'argomento è vasto andrebbe affrontato in modo molto dettagliato me ne rendo conto però mi collego a questo giusto perché scusate giuseppe scusate gabriele rugiu mi ha inviato il suo libro chiedendomi appunto di fargli una recensione lui ha scritto proprio un romanzo un romanzo breve su questi eventi più che gli eventi diciamo la storia racconta dell'esperienza da quello che ho capito ha attinto alle memorie di suo nonno che vi ha partecipato quindi racconta un po queste storie la storia di un sopravvissuto quindi è un racconto breve che prende spunto dagli eventi in questione ora la battaglia di montepiano in realtà va contestualizzata in un momento storico in cui si parlava poco della guerra si parlava poco delle mancanze dei generali italiani nonostante il grande valore dimostrato dai soldati sul campo quindi poco tempo dopo a livello di stampa di media si cominciò a parlare di questa battaglia come un momento veramente epico nella nostra storia e non a caso fu una campagna che andò avanti per quasi tre anni e con effetti devastanti sulle persone quindi insomma grazie gabriele per il tuo libro continua così andiamo avanti allora parliamo brevemente della moldova e ora la vittoria per quanto riguarda le votazioni per far parte dell'europa è una vittoria molto importante perché perché è un piccolo paese che ha subito enormi pressione e infiltrazioni da parte russa stanno venendo fuori tutte tutti i magheggi tutte le magagne di pressione da parte russa che ovviamente so se mi ricollego al video con cui ho aperto con quel tizio da quello che diceva per loro adesso come si dice alla romana stanno a rosicà hanno speso milioni di dollari per influenzare queste votazioni e nonostante questo ha vinto il sì all'europa e che la dice lunga se in un piccolo paese sono riusciti a fronteggiare la pressione russa anche di poco di circa 2000 voti quindi adesso dovranno andare al ballottaggio e sinceramente spero che in questi giorni verranno fuori ancora più magheggi e si cercherà appunto di fare delle votazioni più pulite possibile perché è chiaro che c'è un interesse da parte del paese di far parte dell'europa e l'europa è un'ancora di salvezza in questo momento soprattutto per quello che sta facendo la russia in quest'ultimo periodo che si sta dimostrando estremamente pericolosa è chiaro che la moldova non può essere lasciata sola e in questo momento storico l'europa ha bisogno di essere coesa compatta perché come si dice l'unione fa la forza contro i bulli bisogna essere compatti è vostro diritto decidere il destino della vostra nazione la moldova non è solo ora fra quattro giorni ci saranno fra l'altro anche le elezioni in georgia vi lascio oggi con questa foto che penso che sia stupenda veramente una delle foto più belle che io abbia mai visto ieri la gente è scesa in strada a tbilisi per dimostrare proprio quello che vogliono nonostante anni di repressioni di gente che sparisce di attacchi e di pressioni da parte della russia questo insomma io spero vivamente e mando un grosso abbraccio a tutti i cittadini di tbilisi che riescano a vincere queste elezioni e le pressioni russe bene amici con questo è tutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come sempre un abbraccio alla prossima